Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mina Jivova e questo è il mio primo video e giocheremo in sopravvivenza in Minecraft. Allora, difficoltà normale. Il mondo lo chiameremmo Mina Jivova come il mio canale. Poi, sopravvivenza, difficoltà normale, trucchino, semeno e infinito, dai, giochiamo. Iscrivetevi al mio canale e lasciate un bel mi piace. Allora, si sta generando il mondo? Bello! Abbiamo il legno a sufficiente. Prendiamo il legno, così facciamo intanto la crafting table. Scusate, dieci secondi. E... Allora... Prendiamo la legna e... Taglio il video. Scherzo, non taglio il video. Allora... Ora intanto ci facciamo una crafting table, così intanto ci facciamo un'ascia. legna, così siamo più veloci a prenderci la legna. Io... Ditelo nei commenti e così faccio dei video pure nelle mappe. Allora... Allora, prendiamo la legna. Taglio il video da ora. Ciao a tutti, ora ho preso un po' di legna, abbastanza legna, e sto prendendo un po' di carbone. Allora, ditemelo, come ho detto prima, se volete altri video, così vi faccio altri video, oppure delle mappe. Consigliatemi delle mappe. Perché io non sono tanto esperto sulle mappe. Poi ditemi nei commenti dove fare la casa. O la faccio in una montagna, oppure la potrei fare fuori o nell'acqua. Dove volete. Intanto ci accampiamo dentro la montagna. Così avremo un po' di fè, un po' di pietra, e poi potremmo sopravvivere per un po', e quando me l'avete detto continuiamo. Come mi avete detto. Allora, a casa facciamola piccolina, dai. Perché stiamo ancora all'inizio, mica questa è la casa proprio istantanea. È solo una casa piccola per accamparci per una notte. Piccolissima. Andiamo a trovare qualche pecora, che non c'è un bel niente. Non c'è nessuna pecora qua. Prendiamo altro carbone. E continuiamo. Allora, per ora abbiamo otto pezzi di carbone. E ora ne prendiamo altri. Allora. Ok. Ora ne abbiamo 11. Bastano, dai. Poi entreremo nelle grotte nei prossimi episodi, quando siamo ben equipaggiati. Allora, dove era la casa? La casa, dove era la casa? Era la casa, dove era la casa? Era la sopra, giusto? E... Ci facciamo, intanto, mettiamo qua la crafting. Aspetta che la allarghiamo un altro po' la casa, perché è troppo piccola per ora. E mettiamo qua la crafting. Ora, mettiamo qua la crafting. E... Allarghiamo ancora la casa. Piccola casa. Solo per oggi. Ok, va bene. Facciamoci delle polche. Così, per la notte, siamo già equipaggiati. Diciamo, non equipaggiati, ma... Siamo al sicuro, per questa notte. E facciamoci delle torce. Prima facciamo dei bastoni. E ora facciamo delle torce. Vanno bene otto. Prendiamo le torce e ne mettiamo due qua. Aspetta che l'allargo un altro... No, stop, scusate. Allora, mettiamo... Allarghiamo di là, allora. Perché tanto... Se è di là non possiamo. E nemmeno avanti possiamo, allora facciamola verso di qua, destra e sinistra. Ok, allora... A questo punto mettiamo delle torce. Dove... Vabbè, mettiamone due o tre. Due, tre. E facciamoci una fornace intanto. Ecco una fornace. Però non abbiamo ancora del cibo. Ora andiamo a prendere del cibo, se ancora non è notte. Se non è notte. Allora, ora vado a prendere del cibo. E... Poi possiamo concludere qua la prima parte della serie. Di sopravvivenza. Che... Come vedete là, come c'è scritto. Ma in Givova. Sopravvive. Altro carbone! Non ci credo, dai. Oggi sono fortunato con il carbone. Spero che ne trova alcune pecore. In questa... In questo mondo non ci stanno proprio animali, sembra. Chissà il perché. Allora, prendiamo tutto il carbone. Vabbè, basta così. Perché se no ce l'abbiamo troppo. E vabbè, quando potremmo, andiamo là. E... Possiamo concludere il primo episodio. Aspetta che torno in casa. Ciao a tutti. Spero che il video vi sia un po' almeno piaciuto. E... Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.